Nel giorno dell'anniversario della nascita di Eleonora Duse, Casa d'Annunzio ha ospitato una singolare iniziativa con Franca Minucci e la degustazione di un dolce, Dolce Eleonora. Che giornata è stata? Sì, intanto Dolce Duse. Dolce Duse è un dolce che abbiamo dedicato a lei, a Eleonora Duse. È stato un evento straordinariamente bello quello di questa sera perché poi tra l'altro ho apprezzato questo dolce che aveva alcune caratteristiche, alcune linee fondamentali alle quali si è ispirato lo chef, Angelo Dilmasso, uno chef che ha voluto seguire questa mia idea e devo dire che oggi è molto felice di averlo fatto. Cioè io ho voluto un dolce semplice, un dolce puro, un dolce onesto come io l'ho chiamato, così come onesta era lei, questa donna meravigliosa che è stata una donna anche molto povera, ha avuto un'infanzia molto povera e non l'ha mai dimenticato questo. Ecco, io ho voluto un dolce che ci restituisse un pochino questo suo carattere, questo suo mondo interiore, molto bello per chi soprattutto l'ha amata e l'ha studiato molto come nel mio caso, insomma. Quindi è stata una bellissima serata. Ma com'è fatto questo dolce? È fatto con farina anche delle farine integrali perché è un dolce che si rifà ad un'idea di pane dolce di antica memoria e poi con dentro alcuni frutti come le ciliegie, come le noci che sono i frutti della nostra terra. Abbiamo unito un pochino le due terre, un po' il Veneto con l'Abruzzo, da un punto di vista diciamo di sostanze organolettiche. È stato un dolce che è molto piaciuto perché dentro questo dolce si è sentita veramente la forza della dose, la sua essenzialità, la sua purezza in quello che ci ha dato. Un dolce che ti fa bene, che ti sazia e non ti gonfia perché è fatto con mani oneste e con un principio onesto. E io sono molto felice di proporlo perché questo sarà un dolce che rimane in produzione perché il nostro chef appunto lo tiene in produzione e parte da Scanno che è anche una località molto cara d'annunzio e che quindi continua poi, continuerà questa sua camminata, questo suo viaggio.